Oggi è giovedì 9 gennaio 2020. Nessun giorno, un giorno qualunque, ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 9 gennaio 1448. In piazza Sant'Ambrogio a Milano si tiene un evento che per la prima volta in Italia coinvolge le persone in una lotteria. Il giovane banchiere Cristoforo Taverna ha l'idea di proporre questo gioco per reperire i soldi necessari a rimpinguare le casse della Aurea Repubblica Ambrosiana, svuotate a causa della guerra contro Venezia. È la prima lotteria della storia in Italia. Questo nuovo gioco si rivela doppiamente utile, offre anche ai cittadini più modesti la possibilità di aspirare al premio più alto per risollevare la propria condizione economica e contemporaneamente contribuisce a supportare la patria in un momento di difficoltà. L'idea di Taverna tende a combattere la recessione, dato che la gente preferisce custodire i propri risparmi piuttosto che investirli. Le lotterie vengono legalizzate ufficialmente nel 1520 in Francia con un editto del re Francesco I, che ne autorizza l'organizzazione sulla base di estrazioni in cinque ruote, come vengono chiamate le urne contenenti i numeri da estrarre, collocate in altrettante città. Parigi, Lione, Strasburgo, Bordeaux e Lillà. Nel 1567 le lotterie vengono autorizzate anche in Inghilterra dalla regina Elisabetta I, che ne dispone l'avvio della prima con il fine di finanziare la riparazione di cinque porti. L'intento originario di raccolta di fondi per scopi di pubblica utilità lascia presto il posto al fine di lucro. In alcuni casi nasce anche il sospetto di iniziative truffaldine. Le lotterie riscuotono comunque molta fortuna. Dalle prime esperienze ne nasce un gioco che è arrivato fino ad oggi, il lotto. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.